Si rivolge a quei servizi e quelle prestazioni nel sociale ma poi la Giunta potrà dettagliare e stenderà anche da altre materie quindi come il bonus bebè, i boni scuola, anche l'accesso agli asili nido. Quindi noi vogliamo fare questa normativa generale che poi sarà dettagliata. Logicamente il Consiglio regionale controllerà l'operato dell'azione amministrativa e quindi vogliamo da questo punto di vista tutelare i cittadini a Buzzeri perché per noi vengono prima di tutto. È una forma di premialità ovvero quando si va a graduare le erogazioni delle prestazioni a favore dei cittadini si fa riferimento agli anni di residenza, è vero che l'articolo 1,2 fa riferimento agli anni di residenza ovvero se sono 5 anni di residenza sono 5 punti, 10 anni 10 punti e 20 anni 20 punti. Quindi è solo una forma di premialità a chi risiede da tanti anni in Abruzzo oppure ha lavorato in Abruzzo. Grazie.